Mercoledì 8 febbraio torna a scoprire il fascino di vedere il cinema al cinema. Ogni secondo mercoledì del mese il biglietto costa solo 2 euro, a qualsiasi orario, in tutta Italia. Cinema Today. Al cinema. È un'altra storia. È un'iniziativa del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie.